Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parlò di un'operazione di taglio dell'IVA per rilanciare i consumi come richiesto dalle associazioni, dalle imprese, dai commercianti e dalle categorie produttive. Da giugno scorso non abbiamo notizie di questo taglio dell'IVA che sicuramente aiuterebbe le famiglie e mercato interno. Abbiamo fatto noi, con un lavoro dei nostri tecnici, una proposta che offriamo al Paese, alle imprese, alle famiglie e al governo di taglio dell'IVA calcolata al singolo euro che sicuramente darebbe un impulso notevole alla ripresa dei consumi. Mi lascio dettagliare ad Alberto Bagnai, visto che è un lavoro figlio di un team, a che cosa siamo arrivati. Sono passati alcuni mesi, il governo parlava di taglio delle tasse, noi dettagliamo come e da quando e con quali costi si potrebbero tagliare queste tasse che sarebbe sicuramente una boccata d'ossigeno per le famiglie, per i commercianti e per gli imprenditori italiani. Quindi Alberto, se vuoi andare nel merito per i colleghi giornalisti, per essere molto concreti, non è un'ipotesi dettagliata, con cifre, percentuali, genere di consumo, costi, benefici. E quindi quello che offriamo a voi poi lo mettiamo sui tavoli del governo, sperando che almeno in questo caso ci ascoltino. Certo, volentieri. Grazie. Grazie Matteo. Allora, io prendo cinque minuti giusto per darvi gli ordini di grandezza e poi se volete entriamo in tutti i dettagli che volete. Come voi sapete altri paesi europei hanno anche in circostanza dell'attuale crisi fatto interventi, disposto interventi di riduzione dell'IVA. Ma vorrei fare una premessa. La premessa è che noi abbiamo un governo che ha adottato un approccio che a noi non piace, che è quello di fare interventi parcellizzati, che creano polverizzati, che creano incertezza nel sistema imprenditoriale, anche semplicemente l'incertezza di sapere quando scadono i termini dei singoli interventi. La nostra idea è sempre stata quella di fare interventi più incisivi e più semplici. La proposta era, come ricorderete, quella dell'anno bianco fiscale. È chiaro che a fine anno questa proposta ormai è scaduta, non ha più senso. Allora, la proposta che facciamo è quella di un intervento incisivo sull'IVA. Un intervento che ha un ordine di grandezza plausibile, perché è quello dell'ordine di grandezza dell'intervento che è stato fatto in Germania, cioè l'ordine di grandezza di una ventina di miliardi, poi vi do anche i decimali, e che fra l'altro avrebbe anche il significato di razionalizzare la struttura di questa imposta. E muove da una considerazione. La considerazione è che in questo momento l'Italia è in deflazione, sostanzialmente. L'ultimo dato che abbiamo, quello di ottobre, ci dà un indice generale dei prezzi al consumo in discesa di meno 0,3. ma i prodotti alimentari, le bevande, eccetera, sono tutte in crescita come prezzo, con tassi di crescita tendenziali dell'1,5 e dell'1,8. Quindi quello cui stiamo assistendo in questa crisi è un inizio di spostamento, una diminuzione di potere di acquisto nelle classi più deboli. Ricordiamo che nei primi due decili della distribuzione del reddito, cioè il 20% delle persone meno ricche, spendono il 30% del loro reddito in consumi alimentari. Quindi è evidente che se i prezzi dei consumi alimentari crescono, loro ne sono danneggiati. La nostra idea è stata quella di proporre una rimodulazione dell'aliquoteiva. Voi sapete che l'Italia ha quattro aliquoteiva. L'Unione Europea suggerisce di adottarne due, ma consente di adottarne n, d'accordo? Di paesi che ne adottano due, ce ne sono altri sei, poi ve li dico e vi dico anche quali sono le aliquote. Fondamentalmente noi proponiamo di abolire le aliquote super ridotte, quelle al 4 e al 5%, e di ridurre l'aliquota ridotta e l'aliquota ordinaria, che sono al 10 e al 22%, di due punti ciascuna, portandole quindi rispettivamente all'8 e al 20%. Sulla base degli ultimi dati di gettito, quelli che possiamo trarre dalle relazioni che l'Italia fa all'Unione Europea, perché voi sapete che l'IVA è risorsa propria, quindi va documentato fino al centesimo che cosa si ottiene come gettito per singolo cespite di spesa, sulla base di quei dati possiamo fare una stima di, si lascerebbero nelle tasche degli italiani, 20,2 miliardi di euro. Come ripeto, si andrebbe verso una situazione di configurazione dell'aliquote che è simile a quella di paesi come la Germania, l'Estonia, l'Olanda, la Slovacchia, il Regno Unito, paesi, diciamo che noi siamo soliti sentirci raccontare, in particolare le media, come paesi virtuosi e quindi perché non andare anche noi su questa strada. L'impatto sull'aliquota media, visto che ne abbiamo 4, l'aliquota media scenderebbe dal 15,6 al 13,4, un calo di 2,2 punti che è simile a quello che fece il Regno Unito nel 2008, ci fu un calo di 2,5 punti dell'aliquota media. Abbiamo anche stimato con un modello macroeconomico, sapete che normalmente gli interventi in ambito fiscale vengono fatti di carattere micro, perché bisogna andare a vedere prodotto per prodotto e classe di reddito per classe di reddito, quindi queste sono stime, diciamo così, ovviamente approssimative, ma l'impatto sul PIL di questa manovra sarebbe dell'ordine di uno 0,4% di crescita in più nel primo anno su su fino tendendo verso lo 0,5% negli anni successivi. Quindi questa manovra avrebbe degli impatti espansivi. Questo è un ordine di grandezza che è compatibile con quelli che troviamo nelle simulazioni fatte da istituzioni molto più prestigiose e che hanno molti più fondi a disposizione pubblicati su studi internazionali. Per esempio si stima che anche l'effetto della manovra effettuata nel Regno Unito sia stato di questo ordine di grandezza. Non vi annoio con gli ulteriori dettagli su quello che ci dice la letteratura scientifica sugli effetti di manovra di questo tipo su settori, fra l'altro, particolarmente danneggiati in questa particolare crisi, come per esempio il settore della ristorazione. Abbiamo almeno due precedenti che sono stati studiati scientificamente di riduzione dell'IVA e di impatto sul settore della ristorazione che sono la Francia e la Svezia. La Svezia nel 2012, la Francia mi sembra nel 2011. Ero lì ma non mi ricordo esattamente l'anno e gli effetti normalmente sono positivi. Ripeto, si tratta di un intervento semplice, di un intervento che razionalizza e di un intervento che darebbe un quadro di riferimento certo al sistema economico e che lascerebbe un po' di liquidità nelle tasche degli italiani invece di prestargliela per poi farsela ridare al mero scopo di far pagare le tasse agli imprenditori con dei soldi presi a prestito dalle banche che non ci sembra e non ci è mai sembrato il massimo dal punto di vista della logica di intervento. Grazie. Quindi ci allineeremmo a quello che fa l'Europa visto che ci dicono sempre ascoltiamo l'Europa più europeisti di così passiamo da 4 a 2 aliquote entriamo nelle case di tutti gli italiani soprattutto di chi è più in difficoltà perché passerebbe dal 4% allo zero l'aliquota su pane, latte, frutta e verdura e pane, latte, frutta e verdura sono quello che servono nelle periferie di questo paese scendendo dal 22 al 20% anche qua allineandoci alla media francese, britannica e tedesca abbigliamento, calzature, bevande e tutto quello che si compra in negozio se il negozio è aperto sarebbe una boccata d'ossigeno per l'intero sistema commerciale e artigianale italiano scenderebbe dal 10% all'8% l'aliquota su carne, pesce, zucchero, caffè bollette e alberghi e anche questo sono soldi ripeto, stiamo parlando di 20 miliardi dall'inizio della crisi ad oggi il governo euro più euro meno ha messo in ballo lascio giudicare a voi con quale efficacia oltre 100 miliardi questo sarebbe una spinta ai consumi notevole e sarebbe un sostegno altro che decreto ristori il problema non è inseguire ogni dpcm con una mancia coloro i quali vengono chiusi dalla sera alla mattina questo riguarda tutta Italia da nord a sud tutte le città e tutte le categorie economiche penso che su questo progetto Confindustria, Confcommercio Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura Federturismo e chiunque altro non possa che essere d'accordo lo propose il Presidente del Consiglio a giugno quindi non possiamo essere accusati di proporre robe strampalate mai sentite l'ha proposto il governo non abbiamo più notizie di che fine abbia fatto questa proposta sollecitata dagli imprenditori e dai commercianti l'abbiamo studiata l'abbiamo delineata l'abbiamo quantificata la crescita dello 0,5% nell'arco del medio termine va ampiamente a compensare il costo del provvedimento quindi è un taglio di tasse oggi che diventa maggiore introito e più lavoro domani si parla di 209 miliardi che non potranno a me se non concesso che arrivino e quando arriveranno essere usati per il taglio delle tasse se però quei soldi andranno a sostituire attuali interventi io penso che in una situazione economica e sociale drammatica come questa investire 20 miliardi non in mance ma in sostegno vero alle famiglie, alle imprese sia di buon senso alleghiamo tabelle alleghiamo schemini la Germania ha fatto un'operazione del valore doppio per carità loro sono più forti più grandi più sani e più belli quindi noi non abbiamo fatto to cure quello che hanno fatto i tedeschi ci accontenteremmo della metà l'aliquota in Germania se non ricordo male è scesa dal 19 al 16% quindi stiamo parlando in ogni caso anche se venisse accettata la nostra proposta di 4 punti in meno però non possiamo lasciare le nostre imprese fuori mercato quando le imprese tedesche hanno il 16% e noi teniamo il 22% è chiaro che è difficile competere io penso che invece dei decreti ristori e su questo lascio a voi chiamare Sangalli Bonomi o Prandini o Giansanti su questo progetto penso che potrebbe esserci veramente l'unità nazionale e quindi lo offriamo a gratis non chiedendo in cambio nulla al governo al presidente del consiglio sperando di avere una risposta visto che questo progetto è figlio di studi e non di improvvisazione se ci sono domande rispondiamo volentieri prego se ci spiegano per fare cosa sì l'abbiamo fatto in passato se si vogliono usare dei soldi per aiutare le famiglie e le imprese noi ci siamo cioè se portano in aula un taglio di tasse noi ci siamo se portano altri monopattini elettrici o banchi con le rotelle noi non ci siamo bisogna vedere perché cosa uno se uno mi porta in aula 20 miliardi di taglio delle tasse i voti della Lega ci sono tutti dal primo all'ultimo se uno mi porta in aula manovre elettorali di totale inutilità no i fondi europei si arriveranno arriveranno l'anno prossimo e dipenderanno da altri questi sono fondi italiani su cui può decidere oggi il governo italiano col Parlamento italiano a sostegno delle famiglie delle imprese italiane quindi non sono un'alternativa Alberto corregimi se sbaglio anche perché il dibattito in Europa su questi fatidici fondi europei mi sembra tutt'altro che concluso sì infatti è ancora in corso anche perché come sapete è ancorato alle vicende del bilancio dell'unione europea che sono sempre delle vicende piuttosto complesse ma io intanto ringrazio dell'opportunità di poter dire qualche parola di verità su quello che sta succedendo in Europa e su che cosa e su che cosa arriva da lì sul fatto che i fondi siano tardivi io capisco l'intenzione della domanda che è lecita come tutte le domande ma insomma credo che vi ricordiate siccome siamo adesso a novembre che si era parlato di fondi che sarebbero arrivati in autunno e la cosa è vera solo che purtroppo è l'autunno del 2021 noi avevamo fin da marzo sottolineato che c'erano degli snodi tecnici che avrebbero reso impossibile l'arrivo di fondi e ricordiamo anche che mentre aspettava questi fondi il governo facendo degli interventi di microchirurgia cercava di mettere dei cerottini qua e là invece di intervenire come poi è stato costretto a fare come noi fin dall'inizio avevamo chiesto che facesse cioè con un collocamento adeguato di titoli di Stato sul mercato perché era certo stracerto evidente ovvio che ci sarebbe stato un intervento della BCE che quindi si poteva avere una politica finanziaria da parte del tesoro giustamente aggressiva politica che non c'è stata che si è svolta diciamo così sempre 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 giocando in rimessa e questo ha impedito di intervenire in modo incisivo sull'economia ed ha costretto a quella polverizzazione di interventi che è quello che gli imprenditori lamentano di più perché è oggettivamente molto difficile anche per noi legislatori stare dietro alle scadenze dei diversi provvedimenti a capire oggi chi è la categoria danneggiata perché non ha più accesso a fondi che gli sono stati promessi in tutto questo aggiungo un altro tema europeo che anzi consentite molto rapidamente due primo noi non sappiamo quei soldi a che condizioni arriveranno e ne è prova il fatto che quelli che abbiamo già preso cioè i 10 miliardi del sure hanno delle condizioni in particolare dei tassi di interesse coperti da segreto di Stato motivo per cui qui in Senato abbiamo depositato un'interrogazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze per capire perché non possiamo sapere quanto ci costano i soldi che l'Europa ci dà i soldi che ci dà il mercato hanno fra i vari pregi oltre a quello di non imporci il modo di spenderli anche quello di sapere quanto ci costano secondo suggerisco agli operatori della stampa e dei media di mettere l'occhio come fa oggi in particolare la verità ma credo che domani lo farete tutti sul tema degli aiuti di Stato perché non è assolutamente chiaro perché non sia stata sollevata in Europa il tema dell'evento eccezionale come clausola liberatoria dai regolamenti aiuti di Stato e questo esporrà potrebbe esporre cioè il rischio che esponga chi ha ricevuto certe provvidenze al rischio di doverle restituire io vengo sono stato eletto in Abruzzo dove lavoravo all'università e in quel territorio a seguito del sisma ci sono stati degli aiuti di Stato e c'è stato tutto un contenzioso che è ancora in corso per notificazioni errate o tardive da parte dei governi non abbiamo la sensazione che questa cosa la sia stata gestita benissimo dal governo mi riferisco appunto al tema dell'esenzione dal quadro regolatorio dei aiuti di Stato grazie entrando nel dettaglio da giornalista dico che i primi quattro beni di acquisto che andrebbero a fruire dello sconto IVA che oggi pagano il 22% sono nell'ordine l'abbigliamento il mobile le bollette della luce e del gas e le automobili quindi sono tre fra i settori più colpiti abbigliamento arredamento e auto a cui daremmo una boccata d'ossigeno ovvio che se passi dal 4 allo 0% quindi esenzione IVA totale per pane, latte, frutta e verdura aiuti chi sta a Quartogiaro chi sta allo Zen e chi sta a Torpignatara e quindi riusciremmo ad aiutare tutte le fasce sociali e ripeto tutti i negozi che riapriranno perché purtroppo dobbiamo dire che andiamo ad aiutare un tessuto economico e produttivo che in molti casi dal 1 gennaio non fruirà di questo sconto perché proprio non aprirà e ci sono già i primi casi di usura che è un tema che abbiamo segnalato a tutte le prefetture e al Ministro dell'Interno segnalato in tante città italiane quindi è una proposta dettagliata quantificata misurata stiamo parlando di centinaia di miliardi in ballo quindi non chiediamo la luna parliamo di 20 miliardi per incassarne a medio termine altrettanti dando un contributo ovvero potenzialmente già dal mese prossimo alle famiglie alle imprese poi se l'anno prossimo arriveranno anche i soldi dell'Europa e viva e viva però intanto questo è un contributo vero a chi è a casa e sta lottando per mettere insieme il pranzo con la cena grazie mille prego aspetto il risultato delle elezioni da che mondo è mondo aspetto il risultato ufficiale delle elezioni visto che c'è una discussione ancora aperta non in uno ma in diversi stati dell'Unione e quindi quando ci sarà il risultato effettivo e quando ci sarà il vincitore ufficiale avrà tutte tutte le mie congratulazioni è ovvio che i nostri rapporti con gli stati di interamerica rimarranno ottimi e privilegiati a prescindere dal nome e dal cognome del vincitore però non si è mai vista un'elezione in cui il vincitore viene decretato dalle televisioni o dai giornali il vincitore viene decretato dall'ufficialità che ancora non c'è perché incredibilmente poi ci lamentiamo delle procedure di voto italiane siamo a una settimana esatta dal voto e non c'è ancora il risultato del voto diciamo che questa è cosa abbastanza bizzarra però appena ci sarà il risultato ufficiale ovviamente ci complimenteremo con il nuovo il rieletto presidente degli Stati Uniti dell'America allora io spero che il prossimo commissario per la Calabria sia calabrese ci sono medici calabresi che hanno curato e guarito ad esempio a Boris Johnson e non si capisce perché per curare la sanità della Calabria non si possa scegliere un professionista calabrese quindi non entro nel merito dei nomi e dei cognomi mi sembra evidente che il primo nominato non avesse capito che cosa doveva fare il secondo il secondo nominato ha delle idee abbastanza bizzarre applica il principio fate l'amore non fate la guerra però diciamo che probabilmente c'è bisogno di altro per la sanità calabrese speriamo che il terzo nominato sia selezionato con maggiore attenzione e spero che sia di Reggio o di Catanzaro di Cosenza o di Vibo non si capisce perché con medici eccellenti rettori universitari presidi e professionisti calabresi eccellenti occorre andare dall'altra parte del mondo per quanto riguarda le elezioni in democrazia per quello che mi riguarda fatti salvi i problemi di salute prima si vota meglio è questo vale per la Calabria come per qualunque altro comune che va al voto quindi noi siamo pronti anche domani ovviamente la situazione sanitaria ha tutta la nostra attenzione però spero ripeto che il prossimo commissario per la Calabria sia calabrese e che venga quantomeno condiviso col governo regionale calabrese perché se il governo parla di collaborazione e poi ti para caduta dalla sera alla mattina improbabili commissari in giro per l'Italia non è il modo migliore per collaborare assolutamente no la prossima emissione di buoni del tesoro cosiddetta futura potrebbe raccogliere in quattro giorni il triplo del mese quindi di cosa stiamo parlando se si offrisse ai risparmiatori italiani la possibilità di investire nella ricostruzione del paese avremmo più soldi e meno rischi quindi su questo non cambierò mai idea è una scelta del governo dipende dal ministero dell'economia non dipende da Salvini da Trump da Bolsonaro o da Putin o da Boris Johnson è una scelta del governo se lo fa aiuta il paese se non lo fa non aiuta il paese posso rispettosamente aggiungere una sottolineatura scusate che non vuole essere polemica ma visto che dal mondo dei media noi spesso abbiamo sollecitazioni diciamo a internazionalizzarci e veniamo anche dipinti in particolare come Lega come un gruppo politico chiuso al dialogo che non si esprime in Europa cosa che non è assolutamente vera perché c'è un'interlocuzione costante fra i nostri parlamentari e i commissari ma insomma faccio rispettosamente notare ai mezzi di stampa che vogliano prenderne nota che il dibattito sul MES è la quintessenza del provincialismo in quanto esiste solo in Italia esiste solo in Italia esiste solo in Italia d'accordo? Nel resto dell'Europa non se ne parla perché viene ritenuta un'alternativa assolutamente inefficiente e anche per certi versi che espone a dei pericoli al tema del finanziamento della spesa sanitaria e per chiudere faccio notare che la barzelletta secondo cui chi ha imposto ad alcuni paesi europei segnatamente alla Grecia di chiudere gli ospedali adesso ce li vuole prestare per farceli riaprire è una barzelletta che a me personalmente non fa ridere e credo neanche a tantissimi elettori tutto qui detto pacatamente solo prove veritate grazie mille se qualcuno poi vuole il dettaglio delle aliquote costo per costo cifra per cifra se ce lo dite vi mandiamo la cartella perché sono 32 voci di spesa diverse che da ricordare tutte sono complicate ma siccome abbiamo fatto un lavoro nel dettaglio se qualcuno lo vuole ve lo ve lo giriamo ovviamente grazie a tutti